Allena la primavera della Sampdoria e con piacere che ritroviamo in diretta con noi Enrico Chiesa, Enrico buonasera Buonasera a voi, buonasera Ciao Enrico Diretta con noi anche Francesca Turco Ciao Come stai Enrico? Tutto bene Enrico, questa è una settimana particolare perché presi in questi giorni dalla Champions però è chiaro che l'attenzione si rivolge sul finale di stagione, alcuni verdetti sono già andati Scudetto, in parte la retrocessione e si scalda invece la lotta Champions e quella poi per l'Europa League Scontro particolarmente caldo, quello di sabato tra Sampdoria e Lazio perché entrambe sono lì a lottare per il loro obiettivo che al momento virtualmente avrebbero raggiunto Ti chiedo, come arrivano secondo te a questo appuntamento e l'idea che ti sei fatto sul periodo che stanno attraversando? Ma sai, arrivano tutte e due squadre che stanno bene a parte la Lazio che ha perso domenica con l'Ister però io credo che è una squadra che ha fatto una rimonta eccezionale sì che dobbiamo dire che la Roma ha sbagliato il suo percorso, ha perso tanti punti però la Lazio è una squadra che ha fatto 8-9 barra vittorie di consecutive non le fai in Serie A se non sei una grande squadra, se non stai bene fisicamente arrivano tutte e due, ma è come uno stato analimo sicuramente diverso per gli episodi e per le situazioni che sono create domenica tra Lazio e Inter la Sampdoria arriva da una bella vittoria a Udine speriamo che sia una bella partita che è tutto quello che poi si è venuta a creare discussione che rimanga fuori dal campo io credo che sono due squadre che è bello vederle giocare perché tutte e due si sono espresse credo con Juve, Fiorentina, Tratti un bel calcio perciò speriamo di vedere sabato sera una bella partita questo sì Enrico, quando tu dici le cose che sono successe lasciamo le fuori probabilmente ti riferisci alla coda polemica che viene dalla direzione arbitrale di Lazio Inter il timore adesso al netto che magari errori ci sono stati ci hanno fatto anche molto arrabbiare non sono qua no, questo ci mancherebbe credo che sono successe delle situazioni che è normale che i nove uomini dicendo si sono venuti a creare delle situazioni un po' particolari chi ha ragione, chi ha torto no, no, ma io non volevo entrare nel merito adesso della ridirezione di Mars l'ho attiviata però visto la coda che c'è stata uno dei miei timori è quello che si possa far strada alimentando questa cioè non chiudendo quello che è successo con l'Inter tanto ormai è andata non ci si può più far nulla però per quello che è uscito sui giornali e quant'altro il mio timore è che si possa far strada anche nella testa magari dei più giovani l'idea che puoi fare tutto il tuo meglio però qualcuno non ti vuole e sarebbe un suicidio questo no, credo che come ho detto prima speriamo che questo non succeda ma non credo ma questo può cavitare nella testa di un giocatore inconsciamente è normale siamo persone in un stato calciatore siamo persone normali che pensano fanno leggono perciò credo che è normale che qualcosa può succedere ma io credo che poi credo che se ne parli durante la settimana durante gli allenamenti poi quando è in campo è normale che possono verificarsi tante situazioni io mi auguro come ho detto prima di no assolutamente di no perché sono due squadre tanto belle da vedere quando gioca una pallone e tutto quanto speriamo che come ho detto prima che sia una bella partita Enrico per quanto riguarda la corsa Champions della Lazio che idea ti sei fatta al momento sono in tre Lazio Roma e Napoli il Napoli ha un impegno europeo però per quello che hai visto nelle ultime partite al di là del risultato che idea ti sei fatto secondo te chi sono quali sono le due squadre favorite al momento che la Lazio c'è stato un periodo che poi mi ha pareggiato in casa col Chievo mi sembra ha avuto quelle due tre partite che poteva staccare si può dire anche le altre due anche la Roma perché la Roma ha avuto tante difficoltà la Lazio devo dire che alla fine non ha nulla da perdere nel senso che ha fatto una rincorsa eccezionale e credo che ha dato tutto quello che poteva dare se arriverà in Champions è una squadra che meritava di andare in Champions ha fatto un girono di ritorno straordinario Napoli è sempre lì cerca quasi si avvicina poi cade come è successo a Parma oppure come è successo a Empoli la Roma nell'ultimo periodo soprattutto nel girono di ritorno fa molta fatica ha degli antiebassi e fa molta fatica in questo momento sai a livello un po' così anche di come giocatori come dire tanto mi gioco qualche tipo di cose tanto quello che ho fatto in più l'ho fatto come ha fatto la Lazio nelle otto vittorie persecutive perciò a livello anche inconscio può stare anche meglio la Lazio può arrivare al derby anche un po' più tranquilla anche se noi parliamo di tranquillità al derby di Roma è un po' difficile Enrico è un po' la stessa situazione che hai vissuto anche tu alla Lazio nel 2002-2003 con una squadra che alla vigilia era forse più quotata della formazione di Pioli però non era tra le favorite no? no bisogna pensare che c'erano altre squadre fortissime noi pensiamo che nel cavallo tra il 99-2001 la Lazio c'era la Roma c'era il Milan c'erano diverse squadre ecco magari adesso ce ne sono due o tre magari la Juve che è stata prima invece ce n'era molto di più la competitività era molto più forte sicuramente era una Lazio veramente giovane spregiudicata in certe situazioni perché gli piaceva giocare gli piaceva divertirsi perciò credo che è stata la sottrazione del campionato sotto tutti i punti di vista e la squadra di Pioli sta ripercorrendo questo è una squadra che così quelle otto vittorie l'ha tolto di un peso di una pressione è andata avanti e giocando bene vedendo nell'allenatore e si vedono le partite della Lazio infatti qualche non so partita con altre partite però è una squadra che gioca gioca per vincere magari rischiando certe volte come è stata anche con l'Inter però ha giocato anche in nove però sta bene mentalmente quelle partite con l'Inter anche in nove non le fai Francesca no volevo chiedere Enrico adesso le ultime partite giocate dalla Lazio hanno prodotto ovvio non si poteva neanche pensare che potesse vincerle tutte però diciamo che i risultati dicono che qualcosa si è inceppato c'è stato il pareggio con l'Atalanta vabbè senza fare l'elenco delle ultime delle ultime gare secondo te perché succede questo? succede perché dopo una stagione del genere dove fa una rincorsa straordinaria otto vittori di proprie si consuma il tribo di energie mentali fisiche una squadra che sempre ha aggrappato il risultato che vince è normale che ci sono delle situazioni che si può inceppare la butta anche la Juve magari la Juve ha altri punti però anche la Juve è caduta a Parma è caduta in certe situazioni succede in una squadra una squadra che fa una rincorsa come la Lazio può succedere anzi ha limitato i danni io credo dopo il vostro vittore di file di dicendo credo che qualche passo falso o passo falso può succedere ma credo che sia normale ecco gli infortuni quanto incidono? una squadra è importante gli infortuni sono determinanti dipendenti dai giocatori e quali infortuni in quale reparto Statistica dice che se non c'è Defrai è un bel problema è un bel problema sicuramente ebbè certo bisogna vedere chi manca poi se mancano c'è stato un periodo che la Lazio ha avuto diversi infortuni diversi problemi nel reparto difettivo e non è facile sai se c'hai infortunato ma divisi per reparti lì ti puoi aiutare come altri giocatori è una rosa ampia poi quando ci succede che magari nello stesso reparto ti mancano due sbarra tre giocatori è lì che puoi andare in difficoltà in questo momento la Lazio sicuramente gli manca questa forma importante adesso mi sembra l'ultimo è il centrocampista Luglio cioè giocatore che sta facendo un campionato straordinario Enrico campionato straordinario qualità tecniche di chi non gioca forse anche un po' di personalità perché in alcune partite quando non gira tutto benissimo serve anche quella ad esempio nel pareggio di Bergamo si è imputato questo alla Lazio tanti giocatori anche con talento però mancava quel qualcosa in più quel giocatore che magari mettesse un po' d'ordine e trascinasse la squadra sei d'accordo? può darti però i giocatori esperti ce l'hai i giocatori esperti ce l'hai i giocatori esperti magari non hanno tanto presente ma sono giocatori che qualcosa hanno fatto sì magari in certe situazioni può succedere però io non credo che poi il pareggio di Bergamo può essere anche una normale però è normale perché come ho detto prima quando fanno a rinforzare il gioco ma anche a livello fisico e mentale può succedere poi chiaramente adesso il calendario non aiuterà la Lazio ma che Sampdoria dobbiamo attenderci sabato? è la stessa squadra no dico è la stessa squadra che ha stupito un po' tutti nel girone d'andata o è cambiato qualcosa secondo te? no non credo come tutte le squadre come è capitato anche altre squadre credo che ha avuto un attimo di flessione ma questo è naturale io credo che poche squadre possono permettersi di avere un perdito di nove mesi a certi ritmi e soprattutto i ritmi che ha la Serie A e soprattutto le competizioni che uno va a affrontare la Sampdoria ha vinto a Udine giocando una buonissima partita è tornata a segnare e ciò credo che troverà la Lazio una squadra che sta bene fisica sta bene sta bene come squadra e poi punta per cercare di raggiungere questo traguardo come dice Simita che all'inizio nessuno sperava però penso che poi alla fine quando c'è questo percorso qua ci devi credere fino in fondo e credere se lo stanno facendo Francesca? no mi veniva una battuta che se abbiamo inaugurato Enrico chi ci ha complicato poi un po' il cammino sono stati gli ex D'Abbiava contro l'Atalanta la doppietta d'Ernanes contro l'Inter tu non ci sei quindi non mi preoccupa il gol dell'ex ma no quello del gol dell'ex è normale si inizia su punizione dalla panchina che ne so ma perché l'ex è normale l'ex poi magari ma come è normale no ma è normale nel senso che non so può succedere perché magari l'ex va a giocare in una squadra vuole far vedere che è andato a sbagliare c'è tante situazioni però speriamo comunque come hai detto si affrontano le due squadre vedendo le partite del genere incontrano le due squadre che giocano a viso aperto che giocano per vincere e questo penso che per il calcio italiano non abbiamo tanto bisogno io non so se tu hai avuto modo di vederla la partita con l'Inter uscendo dall'arbitro ci sono stati ovviamente dei rimproveri o delle interpretazioni su come la Lazio ha gestito la partita in nove in alcune fasi qualcuno ha detto la Lazio anche in nove ha provato ad andarsi a vincere la partita e ha preso l'imbucata poi alla fine a volte è meglio tenersi il punto va bene ma è troppo ma sì no c'è chi dice purtroppo la Lazio è fatta costruita io credo sì perché il forte di spiacere più grande è stato per Pioli per chi preso che ha preso un gol in una ripartenza ma non perché voleva sperare di vincere la partita che magari se trovate in una situazione di una palla inattiva ha giocato lì a metà campo e si è trovata un po' scoperta va bene magari poteva prendere gole in un'altra situazione quando erano tutti ben messi in campo otto giocatori che difendevano ma sì può succedere ma io credo che la Lazio sia in dieci che in nove ha fatto la sua partita ma poi è più facile magari difendersi perché magari tutti difendono nella stessa maniera però credo che questo è mai difficile io credo che la Lazio ha cercato di vincere ma soprattutto ha cercato di mantenere anche il pareggio perché sapeva benissimo che in una palla inattiva una palla persa a metà campo poteva prendere una ripartenza e essere in ferita numerica dietro no ti faccio questo discorso perché nella logica delle ultime tre partite andando un po' a fare sai le scalette che sono orrende sono d'accordo però giornalisticamente vanno anche fatte qualcuno sostiene che a Genoa basterebbe non perdere perché tanto comunque il tuo posto in Champions te lo giochi nelle ultime due gare dovrai prenderai le dirette concorrenti allora la Lazio potrebbe tendenzialmente gestirla la partita cercando di parlo di quella di Genoa cercando comunque di non perdere però visto quello che ti ho detto anche prima è considerato il campionato e come ha affrontato sempre le partite la Lazio difficile pensare che la Lazio faccia calcoli di questo tipo visto che mentalmente è impostata diversamente hai ragione però voglio dire puoi pensarlo però la Lazio non credo che abbia le capacità per farlo perché se no non vince otto partite di fila non credo che è una squadra che pensa a speculare ci mancherebbe è una squadra fatta per giocare perché si diverte non incontra una squadra come la Sampdoria che è detto francamente deve cercare di vincere per cercare di rimanere lì e cercare il posto in Europa perché ci sono le altre che tornano anche l'Inter e la Fiorentina ci sono altre squadre perciò bisogna cercare che la Sampdoria ha un obiettivo ma credo la Lazio la Lazio cambierebbe poco voglio dire vedo che si cercherà di vincere perché è normale Rico tu adesso stai lavorando con i giovani e la Lazio è una delle squadre che probabilmente ha investito di più negli ultimi anni non solo sul settore giovanile ma in generale sui giocatori giovani e sui quali puntare ti chiedo un parere su quelli che magari in questa stagione sono messi in evidenza maggiormente penso a Felipe Anderson che è stato atteso per tutta la scorsa stagione pensa allo stesso Danilo Cataldi di cui si parla già di un futuro pronto in nazionale diciamo che Cataldi è stata veramente Anderson ha delle capacità sicuramente naturali Cataldi è stata la sorpresa un giocatore che quando lo vedi giocare sembra non so il primo Verratti nel senso che è molto ordinato semplice non si fa prendere dalla frenesia penso che sia una bella cosa per il calcio Cataldi credo che è stata una sorpresa ma allo stesso tempo una conferma un ragazzo che si conosceva già che gioca con una gran tranquillità enorme veramente Anderson le conoscevamo tutte le sue capacità il fatto che questo aveva le doti per farlo questo sicuramente ci sono state le partite che avveniva la partita da solo lo scorso lo scorso anno sembrava che il più pronto fosse Keita invece quest'anno fatica di più quando invece sembrava quello più pronto ad esplodere in realtà ha subito un po' uno stop Keita secondo te come lo dobbiamo leggere? anche come mondo di gioco di Pioli adesso io non so gli allenamenti vi dicendo non è facile per un giovane la sorpresa lo puoi essere il problema è che poi ti devi riconfermare come potrebbe essere quello di Cataldi nel senso che il primo anno sei la sorpresa vi dicendo però poi ti devi riconfermare nel calcio poi quello che conta essere sempre ogni anno confermati ai propri livelli Keita si può darsi anche per il modulo per il modo di giocare di Pioli magari se una punta con altri giocatori che i trequartisti che partono da dietro però è un ragazzo che credo che ha un futuro importante perché ha delle capacità notevoli come ragazzo come giocatore quando entra fa sempre la sua parte perciò credo che la pressione ci sarà però credo che ha le possibilità per far bene anche tu sei dell'idea che comunque la Lazio il suo campionato se lo giocherà il suo obiettivo se lo giocherà nel derby eh sì tanto si deciderà nel derby poi bisogna vedere poi il sabato sono tre partite come l'avete detto voi il derby poi può essere fondamentale per il discorso della Champions veramente arrivare alla penultima giornata a un derby di Roma credo che tutti l'avrebbero scritto e sognato c'è altri quelli che poi fanno di fuori non so i tifosi di Lazio-Roma perché sarà una tensione incredibile però credo che per uno che è appassionato al calcio e gli piace il calcio credo che vedere un Lazio-Roma decisivo per la Champions non è niente male beh tu tra campionato e Coppa Italia ne hai giocato qualcuno Enrico? sì nel giocato a scelta e poi sono scelta la atmosfera che c'è prima durante la settimana che precede il derby però io ho sempre la sensazione che lo dirò sempre io credo che vivere il derby ho vissuto anche il derby di Genova con le proprie dimensioni normale però quello di Lazio-Roma incredibile veramente e mi ricordo il 2-2 che poi si mise ad aver sbagliato il rigore di 3-2 è stata una cosa cioè entrare in campo non sentire neanche probabilmente il tuo compagno di squadra con l'antore assolutamente non lo senti quando parla potrebbe essere un bene magari no sì un bene un male non lo so però tutti è una concentrazione altissima che a un certo punto tu ti esuli dai tifogi perché sennò veramente è difficile concentrarsi sulla partita perché c'è questa grande atmosfera questa partecipazione noi giocavamo in casa era una cosa incredibile veramente cioè quando racconto un episodio di Roma di tanto pure l'esperienza mia della carriera devo dire che Roma la Lazio come tifo come partecipazione e il derby vivere il derby penso che per un giocatore è veramente una cosa straordinaria perché c'è un'atmosfera che va al di là della partita di calcio c'era qualcuno che lo soffriva in particolar modo Enrico? sì c'erano dei giocatori poi sai inconsciamente delle volte non lo fai neanche a vedere magari trottini dentro durante il ritiro però se ne parlava io mi ricordo che il giovedì precedente venivano sempre due o tre mila persone a Formello c'era una partecipazione straordinaria era una squadra di grandi giocatori la Natore Mancini e sì sicuramente ci sono i giocatori che soffrono un pochettino un po' di più degli altri questo è normale però poi sai quando è in campo cerchi di smascherarlo col giocando ma lì era anche difficile Francesca l'ultima e poi salutiamo Enrico sì no dicevo che so che bisogna pensare a una partita alla volta quindi vorrei non dovermi pentire di saltare insomma di non pensare alla Samp però stavo parlando di derby ti dico visto quello che c'è in palio visto anche gli obiettivi di inizio stagione come si è sviluppata la stagione secondo te in questo derby c'è un favorito dal punto di vista di quanto possono accusare il peso di questa partita io non credo sì credo che supererà le difficoltà del derby chi arriverà la squadra più preparata a livello mentale esatto perché il derby poi è a livello mentale certamente fisico ma è a livello mentale cioè a livello della squadra del giocatore di tante situazioni e io credo chi arriverà un punto in più un punto in meno non credo che cambi qualcosa l'avete detto anche voi perciò credo che sarà determinante chi arriverà più preparato a livello mentale beh poi fisico ci sarà ma a livello di preparazione chi dirà io ho fatto di tutto per arrivare a questo derby non ho nessun rimpianto è gioco per vincere però con più tranquillità certo e ci auguriamo che la Lazio possa arrivarci meglio posso rubare ancora 30 secondi da Fabio di non arrabbiarsi visto che abbiamo fatto un tempo poi siamo arrivati al volo al volo chiedo a Enrico questo stasera la Juventus va in campo e si sta giocando alla finale potrebbe essere cioè ci auguriamo che la Juventus arrivi in finale però se se la Juventus arriva in finale la finale di Coppa Italia è anticipata tre giorni prima del derby non so forse proveranno un sistema per farci che la rimandano alla finalità no no la giocano purtroppo il 20 vero? sì il 20 il 20 e il 24 il derby due partite così a livello poi come sportivo come vedere una partita di calcio facile anche per un attore gestire due partite del genere non è facile sicuramente ma inconsciamente si fa una scelta no assolutamente non credo non è fatta una scelta anzi se poi la sbagli è una rimpianza enorme io credo beh la mia piccola esperienza da allenatore ma anche da giocatore i calcoli è difficile perché poi quando fai un calcolo succede sempre l'incontrare perciò io credo che anzi io credo partita per partita per la prepari perché tu devi con la partita nel Coppa Italia o chi deve essere devi vincere perché ha di vincere poi quello che succederà succederà perché se pregrammi credo che poi alla fine succede sempre l'incontrare Enrico noi ti ringraziamo veramente sei stato gentilissimo è un piacere averti in diretta e soprattutto buona fortuna per la tua avventura grazie grazie mille arrivederci ciao Enrico grazie arrivederci